Buon pomeriggio, bentrovati da Flores Multimedia e da Mauro Ciutini. Pioggia sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo e Vicarello, pioggia anche in A1 tra Valdarno e Arezzo. Si raccomanda la massima prudenza alla guida. Un veicolo in avaria in A1 tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud, la direzione quella per Roma. Sul raccordo Siena-Firenze c'è uno scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo Firenze in Pruneta e San Casciano Nord, la direzione quella per Siena. Rallentamenti anche sull'Aurelia, sulla Statale 1, ci sono lavori dopo la stazione di Albinia, prima dello svincolo di Alberese in direzione Ponte San Luigi. Passiamo alla Statale 67, la Tosco-Romagnola, ci sono lavori di manutenzione nel tratto dopo il Muraglione, prima di Rocca San Casciano, lavori in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città-Metropolità di Firenze e Comune di Firenze. Ci sentiamo più tardi, buon viaggio. Grazie a tutti.